buon pomeriggio a tutti e bentrovati a questo nuovo incontro della serie gli autori raccontano io sono francesco staderini faccio parte della redazione di umanistica per le squadre superiori e oggi è il piacere di presentarvi i due relatori di questo incontro ossia lucio caracciolo e adriano roccucci salve buongiorno ben trovati a tutti lucio caracciolo è il fondatore e direttore di dimes la più importante autorevole rivista di geopolitica in italia la quale anche recentemente lanciato la propria scuola la scuola di limes una non accademia di geopolitica e di governo come sapete tutti in questo vorticoso succedersi di sciagure quotidiane la geopolitica ormai spodestato la virologia e si è piantata al centro del dibattito pubblico e chissà ancora per quanto tempo ci resterà grande esperto di geopolitica anche adriano roccucci il quale professore di storia contemporanea presso l'università di roma 3 fa parte del comitato scientifico di limes è stato direttore della rivista mestiere dello storico ed è un grande esperto di storia russa si è interessato in particolar modo al rapporto tra il potere russo e la chiesa ortodossa tra le sue ultime pubblicazioni ricordo il libro stalin e il patriarca la chiesa ortodossa il potere sovietico uscito recentemente qualche mese fa per e in audi perché lucio caracciolo e adriano roccucci sono oggi qui con noi perché sono gli autori di un nuovo manuale di storia triennio appena pubblicato da mondadori education ossia le carte della storia queste sono le copertine se vogliamo indicare una caratteristica di questo manuale sicuramente l'attenzione nel presentare le dinamiche geopolitiche all'origine dei grandi processi storici avvalendosi di una cartografia ricchissima e particolarmente curata che si ispira alle carte di limes che sicuramente molti di voi hanno presente manuale che senz'altro potrebbe aiutarvi nello spiegare ai vostri studenti ciò che sta accadendo tragicamente in questi in questi giorni e spero sicuramente che nelle prossime settimane avete modo di avere per le mani una copia saggio nel manuale di sfogliarlo di valutarlo e spero che lo apprezzerete prima di cedere la parola al primo relatore adriano roccucci che ci parlerà della primo dopoguerra alcune comunicazioni di servizio come sapete la partecipazione questa a questa diretta da questo webinar sia in diretta sia entro la mezzanotte di oggi vi consente di avere un certificato un attestato che sarà recuperabile nella sezione dedicata questo sito la video lezione questa video lezione resterà comunque a disposizione nel canale youtube dell'editore e potrete quindi rivederla quando vorrete e proporla per esempio anche ai vostri studenti così come anche le slide che accompagneranno questa lezione le troverete nella sempre sul sito di mondadori education da ultimo vi invito caldamente a sottoporre le vostre domande accedendo al sito fai la tua domanda e inserendo il codice 90 81 oppure accendendo via tramite qr code domande che sottoporremo poi ai nostri redatori nell'ultimo quarto quarto d'ora di questo incontro che durerà fino alle 4 ci ho detto cedo la parola ad adriano roccucci e api parli grazie molte io appunto devo affrontare il tema delle conseguenze della prima guerra mondiale e lo tratterò da alcuni punti specifici noi sappiamo tutti quanto la prima guerra mondiale abbia costituito un tornante decisivo della storia contemporanea un tornante che ha portato a compimento quelli che erano i processi di trasformazione del mondo e che sono le caratteristiche e i connotati della età contemporanea l'industrializzazione la società di massa la mondializzazione e l'idea di nazione come nuovo paradigma della politica e della geopolitica e infatti la guerra fu una guerra industriale una guerra di massa una guerra totale una guerra mondiale ma alla fine della guerra quale erano le conseguenze di quel conflitto di quel conflitto per tanti aspetti inedito nuovo le speranze di pace del 19 si dovettero confrontare con delle sfide quelle che provenivano innanzitutto dalla ristrutturazione dell'ordine internazionale emergeva una nuova potenza mondiale tendenzialmente egemonica gli stati uniti con un progetto di valori liberali sulla cui base costruire il nuovo ordine internazionale la cui esemplificazione come è noto era data dal programma enunciato dal presidente wilson con i suoi 14 punti il principio di autodeterminazione costituiva uno dei cardini della visione wilsoniana proposto come fondamento di un nuovo internazionalismo in europa l'utilizzo del principio di autodeterminazione come criterio con cui ridisegnare la mappa politica del continente ebbe l'effetto di radicalizzare i nazionalismi ai quali voleva offrire una risposta e qui sottolinea un aspetto la classicamente la storiografia ha spesso ritenuto il crollo degli imperi prodotto dei nazionalismi le correnti più recenti della storiografia tendono a invertire questo rapporto e a far risaltare come sia stato il crollo degli imperi causato dalla guerra a radicalizzare i nazionalismi lo storico britannico che ha recentemente pubblicato in due volumi una poderosa storia dell'europa nel novecento young kershaw ha individuato nella miscela di quattro fattori e questo vorrei proporvi la causa della catastrofe che ha conosciuto l'europa nella prima metà del secolo il primo fattore è un'esplosione di nazionalismo etnico di stampo razzista secondo lo storico britannico il secondo sono i conflitti relative alle revisioni dei confini territoriali il terzo è l'acutizzazione dei conflitti di classe il quarto una prolungata crisi del sistema economico capitalista la loro interazione di questi quattro fattori ha generato un periodo di eccezionale scoppio di violenza che ha avuto il suo epicentro nell'europa centro orientale e sud orientale e colpisce come questa parte dell'europa torni drammaticamente al centro delle vicende europee mondiali più volte nella storia e anche in questi nostri giorni in quell'area infatti la fine degli imperi e le vicende turbolente della russia rivoluzionaria favorirono la radicalizzazione dei nazionalismi etnici in queste regioni si giocò dopo la prima guerra mondiale una partita decisiva per la storia europea e il loro ruolo è stato cruciale nel determinare come dire processi di degenerazione della politica nella prima metà del novecento torniamo a quel principio di autodeterminazione dei popoli che fu proclamato prima che da wilson da lienine da trotsky nella russia rivoluzionaria che fu al centro della conferenza di parigi che volle dare una sistemazione alla pace all'europa dopo la guerra e al centro degli eventi degli anni immediatamente successivi alla fine della guerra dal diciannove al ventitré esso sarebbe divenuto questo principio di autodeterminazione il perno di quella che veniva chiamata la società internazionale in quanto unico principio riconosciuto di legittimazione degli stati uno storico americano eretzmanela scritto un libro da intitolato dei wilsonian moment che ha voluto indicare come e appunto quel principio wilsonano conobbe una diffusione mondiale negli anni immediatamente successivi alla prima guerra mondiale ma con un'applicazione limitata in quel dopoguerra all'europa centro orientale e in parte al medio oriente il crollo degli imperi asburgico ottomano russo e quello del reich guglielmino furono eventi di grandi significato geopolitico che provocarono la nascita di nuovi stati nazionali il 1919 in qualche modo può essere considerato l'anno del trionfo dell'idea di nazione con la conferenza di parigi nacquero in europa nuove nuovi stati nazionali la finlandia l'estonia la lettonia la lituania la polonia la cecoslovacchia l'ungheria l'austria e la jugoslavia ai quali nel 1923 si aggiunse la moderna turchia tuttavia questo processo di formazione degli stati nazionali non fu lineare gli stati successori degli imperi si misurarono con delle necessità in primo luogo con la necessità di configurare un profilo culturale etnico coerente di consolidare la loro integrità territoriale pietra d'inciampo è anche motivo di numerose conflittualità fu il carattere plurilinguistico e plurietnico dei territori in cui vennero a costituirsi i nuovi stati era una delle eredità imperiali con cui il mondo post bellico doveva confrontarsi e la soluzione nazionalista cioè quella del tentativo di omogeneizzare il territorio di uno stato dal punto di vista etnico comportava alti costi da pagare il trionfo del nazionalismo nell'europa dopo la prima guerra mondiale portò con sé spargimenti di sangue guerra guerre civili dal momento che il diffondersi dello stato nazionale in quel mosaico coetnico che era l'europa centro orientale orientale segnò anche la nascita del problema politico delle minoranze non pochi infatti degli stati multinazionali che nascevano al posto degli imperi multietnici erano a loro volta degli stati plurali plurali dal punto di vista linguistico plurali dal punto di vista etnico un grande economista un grande intellettuale nato in quella leopoli centro principale della galizia orientale oggi dell'ucraina occidentale che tutti noi abbiamo imparato a conoscere dalle croniche di questi giorni quel ludwig von mises e poi uno dei principali studiosi della scuola austriaca di economia dell'economia di economia liberale bene pubblicò dopo la guerra un importante saggio in cui disse qual è il tratto della europa centro orientale dell'europa orientale proprio il fatto di essere un terreno un territorio plurale erano territori plurilingue in cui secondo lui si erano instaurati dei legami particolari tra retratezza economica nazionalismo e costruzione statale la questione delle minoranze quindi divenne per gli equilibri dell'europa post bellica un tema chiave la cui posta in gioco erano in buona misura le stesse prospettive di pace per il futuro dell'europa dopo la grande guerra è emblematico il caso della polonia emblematico del travaglio della costruzione degli stati nazionali in europa centro orientale dopo la prima guerra mondiale la riconquistata indipendenza della polonia che avveniva dopo le spartizioni di fine settecento che avevano posto fine alla esistenza del regno polacco quella riconquistata indipendenza sollevava una nuova questione quella dei confini del nuovo stato e bene tra il 1918 e il 1921 furono combattute ben sei guerre per la definizione dei confini della polonia lo stato polacco infatti si scontrò con la proclamata repubblica popolare dell'ucraina occidentale formatasi appunto nella galizia orientale attorno a leopoli per il possesso di leopoli e della sua regione considerata terra polacca ci fu un conflitto con la germania per il controllo di posnan posen e per quello della slesia un'altra guerra fu con i lituani per la città di vilnius vilna con la cecoslovacchia per il contrario controllo del ducato di tescan con la russia rivoluzionaria per le regioni occidentali di bilorussia e ucraina vedete come tornano queste regioni e come fu complessa combattuta questa costituzione dello stato polacco e quindi anche ci fa dire altra acquisizione della più recente storiografia che in realtà non è forse del tutto corretto parlare di una fine della guerra nel 1918 sì il grande conflitto mondiale ebbe fine ma la guerra continuò in tante parti d'europa e la violenza politica figlia della guerra caratterizzò le vicende di molti paesi europei è la una guerra dopo la guerra potremmo dire come ha scritto in un libro che è anche disponibile in traduzione italiana robert gervart la rabbia dei vinti si chiama in italiano si intitola il suo il suo il suo libro allora la questione della polonia è una questione emblematica di quelle che furono le dinamiche il travaglio della europa post bellica nel quadrante centro orientale del continente pensate che la polonia che nacque nel 1919 sotto la guida del generale piususchi il quale aveva un'idea di polonia multietnica a differenza del suo antagonista politico roman dvonsky il quale invece era sostenitore di uno stato polacco fondato sul nazionalismo etnico cioè lo stato polacco era solo per i polacchi etnici bene quella polonia nel 1919 fu caratterizzata comunque da un nazionalismo aggressivo nei confronti delle cospicue minoranze etniche infatti se i due terzi della popolazione erano polacchi gli ucraini circa 4 milioni corrispondevano al 14 per cento della popolazione e i rapporti tra polacchi e ucraini non erano certo idilliaci gli ebrei quella grande folta comunità ebraica della polonia che sarebbe poi scomparsa con la shoah erano il 9 per cento della popolazione i bielorussi il 3 per cento i tedeschi più del 2 per cento vedete stati nazionali fortemente plurali in quel contesto per le minoranze sembrava che l'unica percorso fosse quello della assimilazione e tendenze simili noi riscontriamo anche in altri paesi dell'europa centro orientale in altri stati nazionali nati dalla da parigi e della fine della prima guerra mondiale nella romania nei confronti delle minoranze ungheresi ebree tedesche e ucraine nella cecoslovacchia di nuova fondazione sebbene con caratteri meno repressivi meno violenti ma comunque discriminatori nei confronti della minoranza tedesca dei sudeti e di quelle ungheresi polacche rutene e in parte anche slovacche era una grande sfida per l'europa post bellica a cui si cercava di mettere di dare diciamo una soluzione attraverso degli strumenti del diritto internazionale furono in quegli anni firmate circa 14 accordi che riguardarono la tutela dei diritti delle minoranze ma si rivelarono spesso delle armi assai spuntate un processo analogo sebbene con delle caratteristiche diverse possiamo anche vederlo nel processo di dissoluzione dell'impero ottomano nella europa sud orientale e poi nella anatolia e nel medio oriente come noi sappiamo i tentativi di omogenizzazione etnica del territorio di alcune parti dell'impero ottomano avevano conosciuto durante la prima guerra mondiale la pagina dello sterminio di massa avvenuto nei confronti degli armeni e di altre minoranze cristiane come i siriaci o o altre quel mezzi e gern quel grande male che con cui viene chiamato il genocidio degli armeni e anche con l'uso dello scambio di popolazioni cioè il trasferimento coatto e forzato di popolazioni in cui furono coinvolti un milione duecentomila più o meno greci e mezzo milione di turchi che cosa era era l'applicazione al all'impero multiconfessionale ai territori dell'impero multiconfessionale multietnico dell'idea occidentale di nazione cioè dell'idea della formazione di stati nazionali etnicamente omogenei mentre gli imperi si caratterizzano per l'esaltazione delle differenze ma il monolinguismo degli stati europei occidentali che conosce anche negli stati europei occidentali una sua storia travagliata pensiamo solamente all'italia ma anche alla francia come sia stato travagliato l'affermazione di un'unica lingua nazionale però era largamente lontano da quella che era la realtà del medio oriente della dell'anatolia dove popolazioni che parlavano lingue diverse erano mescolate geograficamente erano state mescolate dai processi della storia in maniera appunto complessa l'applicazione di tale formula occidentale tra questi popoli secondo uno storico britannico arnold toimby ha generato anche qui delle radicalizzazioni dei conflitti nazionali allora questa dopoguerra dopo la prima guerra mondiale si caratterizza quindi per una radicalizzazione violenta del confronto etnico nazionale in una parte del continente e per una radicalizzazione del confronto e della lotta politica e sociale in diversi paesi dove l'influsso dell'esempio dell'ottobre russo dell'ottobre bolshevico tende a radicalizzare le posizioni del movimento socialista del momento operaio del momento rivoluzionario sono i tentativi rivoluzionari in germania quello degli spartachisti è l'esperienza della repubblica bolshevica di bella kun in ungheria è il confronto politico caratterizzato dall'uso sistematico della violenza con cui si risolve la crisi sociale e politica dell'italia del dopoguerra con l'avvento del fascismo che fa dell'uso della violenza uno strumento di lotta politica regolare e qui e con questo vorrei concludere nella nelle conseguenze della prima guerra mondiale sull'europa occorre considerare l'effetto per usare un termine dello storico george moss di brutalizzazione che la guerra ha provocato nelle società europee laddove milioni di europei avevano sperimentato negli anni tra il 14 e il 18 la dura esperienza dello confronto quotidiano con la violenza di guerra con la morte di massa nelle trincee o nei campi di combattimento dei vari fronti della prima guerra mondiale quella generazione di europei che aveva combattuto è in parte la generazione protagonista del confronto politico violente radicalizzato in molti paesi dell'europa post bellica ma di quella brutalizzazione sono anche in quella brutalizzazione sono anche coinvolte le generazioni che se non hanno combattuto conoscono la loro adolescenza durante la guerra sono giovani all'indomani della guerra e che vengono travolti da quella ondata di violenza che generata dalla grande guerra travolge le società europee del periodo post bellico grazie bene grazie molte professore di questa ampia prospettiva sulle conseguenze della prima guerra mondiale soprattutto in queste zone calde che effettivamente adesso insomma ignoriamo quanto quanto ci fossero stati strascichi di violenza duratura ben al di là del 1918 e anche della brutalizzazione che la guerra ha sortito nelle nelle società nelle società delle europee infatti una delle slide abbiamo riportato uno uno straggio del manuale in cui si sofferma sul pesantissimo bilancio di morti tra sia tra i soldati sia tra i civili e su questa dimensione di massa proprio anche del lutto che fu provocato da queste gravi perdite durante la prima guerra mondiale e poi ovviamente sappiamo che questo questo strascico ha poi avuto i suoi e le sue conseguenze in tutto il periodo tra le due guerre fino a giungere la seconda guerra mondiale e poi appunto a ciò che è venuto dopo la seconda guerra mondiale è su questo che si concentrerà invece nel suo intervento Lucio Caracciolo al quale adesso cederò la parola e che appunto si soffermerà sul secondo dopoguerra e sulle sue conseguenze in Europa e nel mondo quindi prego Lucio Caracciolo e a più tardi per l'ultima parte di questo incontro con la risposta alle vostre domande grazie a voi riprendo il lucidissimo filo con cui Adriano Rucucci ci ha condotto attraverso la prima guerra mondiale che può deve essere letta a mio avviso non solo a mio avviso come la preparazione della seconda come il prologo della guerra che incendia prima l'Europa e poi il mondo fra il 39 e il 45 e queste due guerre lette insieme segnalano quello che è il fenomeno ancora in corso oggi cioè quello della disintegrazione degli imperi europei si parlava prima degli imperi asburgico, tedesco, ottomano, russo quello ovviamente asburgico non è rinato se non nelle menti o nelle nostalgie di qualcuno quello ottomano, l'attuale sovrano che si sente anche un po' sultano della Repubblica Turca immagina di poter ricostituire in un tempo visibile quello tedesco per il momento è ridotto ai minimi termini nel senso che non è mai esistita una Germania così piccola vedremo per quanto tempo resta la questione russa che è tuttora aperta come purtroppo ci segnalano le croniche noi possiamo leggere l'attuale conflitto nell'Ucraina come la fase finale della disintegrazione dell'impero russo barra sovietico e anche visto dalla Russia come tentativo di ricostituirlo ripartendo dal suo perno dalla sua culla chievana in questa prospettiva il secondo dopoguerra che è ancora in corso per molti versi è segnato appunto dall'avvento di due imperi uno totalmente esterno uno interno esterno quali egemoni nello spazio del vecchio continente mi riferisco ovviamente agli Stati Uniti d'America padroni tra virgolette o anche senza dell'Europa occidentale dopo il 1945 e all'Unione Sovietica che dominò l'Europa centro-orientale fino al 1989-91 crollo del muro, unificazione tedesca e poi alla fine disintegrazione dell'Unione Sovietica la prima fase del secondo dopoguerra è segnata dalla impreparazione dei principali attori rispetto a quello che sarebbe dovuto essere l'ordine successivo alla sconfitta della Germania e dell'Italia alle conferenze di Yalta e di Potsdam in particolare si cerca di trovare un compromesso ma si scopre alla fine che gli interessi le culture i modi di vedere il mondo dopo la seconda guerra mondiale sono troppo diversi fra loro ed eccoci quindi di fronte alla inevitabile cogenza di una cosiddetta cortina di ferro cioè di una linea di separazione netta come se fosse una spina dorsale tra Europa occidentale ed Europa orientale che passa fra l'altro lungo una linea di confine che più o meno segue quella che divideva l'impero carolingio dall'Europa centro-orientale in particolare la linea anche del fiume Elba che divideva la Germania in due e che ha una sua pregnanza un suo radicamento storico molto profondo addirittura risalente ai tempi romani questa linea che ha separato l'Europa per quasi mezzo secolo ha ancora, lo vediamo oggi, un suo significato perché ci ricorda come la parte occidentale dell'Europa dopo la fine della prima e della seconda guerra mondiale avesse trovato un suo assetto abbastanza stabile e nella seconda guerra mondiale lo trovò soprattutto perché gli americani scesero in campo prima in Sicilia poi in Normandia e quindi decisero di restare in Europa invece che tornarsene a casa come fecero nel 1918 è quindi in Europa occidentale che si forma un nucleo di paesi che sotto la guida americana decide di avvicinare le proprie storie le proprie culture, le proprie economie e anche la propria moneta lungo un processo che anticipato dal piano Marshall nel 1947 e poi dalla fondazione dell'Alleanza Atlantica nel 1949 forma un insieme che oggi si chiama Unione Europea e che corrisponde infatti non a caso all'Alleanza Atlantica o quasi voglio dire che la radice dell'Europa occidentale è contemporaneamente europea e americana e che, come è ovvio che sia francesi e tedeschi alla fine della seconda guerra mondiale non si amavano moltissimo ammesso che si siano mai amati e se non ci fossero stati gli americani la famosa Europa carolingia non sarebbe mai venuta alla luce e non saremmo mai venuti alla luce insieme ad essa anche noi italiani come una repubblica che visse specialmente nei suoi primi decenni una fase di formidabile rinascita anche economica di cui ancora godiamo gli strascichi il secondo dopoguerra è quindi la fase in cui noi stabiliamo che la partizione del mondo stabilita dagli europei non è più possibile che l'Europa quindi perde la sua proiezione mondiale e non solo perde la sua proiezione mondiale ma ospita al suo interno le due massime potenze mondiali quindi un rovesciamento di 180 gradi prima erano gli europei che erano alla conquista del mondo e adesso il mondo nelle sue due maggiori potenze che governa una metà o l'altra metà del nostro continente perché? perché semplicemente una volta esaurito lo spazio coloniale le potenze imperiali europee non potevano che scontrarsi fra loro e naturalmente uno scontro fra le potenze imperiali europee cioè le massime potenze mondiali del Novecento non poteva che produrre una guerra mondiale e le conseguenze che vediamo questa partizione era basata su un accordo non formalizzato ma effettivo che permetteva ai sovietici e agli americani di reggere in modi completamente diversi le rispettive europe senza interferire troppo in quell'altrui voglio dire che l'Unione Sovietica sapeva bene che Berlino era la sua frontiera avanzata e che molto più in là non sarebbe mai potuto andare e noi occidentali sapevamo che l'Ungheria piuttosto che la Germania Est o piuttosto che la Polonia erano off limits tanto è vero che per citare qualche esempio quando nel dopoguerra alcuni popoli sottomessi dai russi verso i quali non provavano particolari sentimenti di gratitudine provarono a ribellarsi penso alla rivolta di Berlino Est nel 1953 a quella di Budapest o anche a quelle polacche nel 1956 penso a Praga nel 1968 i sovietici poterono reprimere a man salva queste insurrezioni senza che l'Occidente vedi l'America vedi la Nato muovessero un dito il principio era ognuno è più o meno libero di fare quello che crede dalla parte sua del muro questa bipartizione era a sua volta sorretta dall'equilibrio del terrore cioè dalla considerazione valida sia in campo occidentale che in campo orientale per cui la minaccia atomica di per sé impediva la guerra è anche fra l'altro il grande dilemma di questi giorni sarà ancora vero non sarà più vero certamente lo è stato vero per quel lungo periodo e ancora adesso ma soprattutto in quel lungo periodo per una cogenza geopolitica cioè per il fatto che esistevano due blocchi e la parola esprime la realtà due blocchi molto diversi fra loro per tono economico politico ideologico ma comunque piuttosto coesi quello orientale in particolare coeso con la forza quello occidentale più che altro con il consenso ma comunque retti da due responsabili che erano responsabili di se stessi ma anche di questi imperi esterni formalizzati rispettivamente nella Nato e nel patto di Varsali questa deterrenza aveva anche in quella fase avvicinato le culture strategiche geopolitiche americane russe e dei rispettivi imperi per dirle in parole povere i sovietici capivano quello che gli americani volevano e gli americani capivano quello che i sovietici volevano e questo in una tensione permanente perché più volte si è rischiato durante quella fase del secondo dopoguerra particolare negli anni 50 e 60 qualche misura anche dopo si è rischiato di arrivare a uno scontro militare fra est e ovest ma uno dei fattori che lo ha impedito è stata proprio la comunicazione sia a livello tecnico-militare sia a livello politico tra americani e sovietici che pur pensandola in modo completamente diverso sul mondo e su se stessi convergevano nella necessità di evitare l'olocausto atomico questa fase della nostra storia il secondo dopoguerra ha una sua prima fine perché io penso che questo fenomeno non sia ancora chiuso abbia avuto una sua prima fine io penso nel 1989-91 come dicevo in quel triennio in cui abbiamo avuto contemporaneamente la fine della divisione delle due Germanie e la fine dell'impero sovietico e infine la fine della stessa Unione Sovietica fine che è ancora in corso e che è ancora contestata da Mosca una delle caratteristiche della Unione Sovietica alla sua nascita era quella di essere una federazione di repubbliche sovrane nominalmente di fatto non sovrane accentrate intorno alla Russia accentrate intorno a Mosca ma comunque queste repubbliche dotate di una propria formalizzazione tanto è vero che per esempio l'Ucraina e la Bielorussia avevano un seggio proprio alle Nazioni Unite non mi risulta che abbiano mai votato in modo diverso dall'Unione Sovietica erano chiaramente un prolungamento dell'URSS quando per una serie di ragioni tra cui credo la principale dal punto di vista interno fu la crisi terminale del partito comunista dell'Unione Sovietica l'Unione Sovietica implose la cosa più semplice da fare per evitare una catastrofe e una guerra civile su scala eurasiatica era quella di dividersi lungo le linee sovietiche cioè lungo le linee tracciate in particolare da Lenin da Stalin in parte da Khrushchev dopo il 1922 cioè dopo la nascita dell'Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietica ciò che cambiava completamente tono e senso a una quantità di repubbliche e quindi di territori come per esempio l'Ucraina la quale all'interno dell'Unione Sovietica quindi all'interno di una divisione del lavoro centrata su Mosca aveva un suo specifico e importantissimo ruolo in particolare in campo economico pensiamo al famoso granaio ucraino dal punto di vista industriale in particolare dell'industria degli armamenti concentrata in Ucraina in gran parte dai Kalashnikov ai missili che ancora oggi vengono prodotti o erano prodotti fino al 24 febbraio in Ucraina ecco questa parte dell'Unione Sovietica diventando stato indipendente come per esempio la Bielorussia piuttosto che il Kazakhstan acquista è evidentemente una dimensione completamente diversa cioè diventa invece che una parte di un sistema sistema e siccome nel caso ucraino in particolare in altri casi modo meno evidente l'Ucraina da sola non è un sistema perché come ha in parte già spiegato Adriano l'Ucraina è composta storicamente da diverse entità sia territoriali che etnoculturali che linguistiche tutto questo ha prodotto una sua instabilità molto forte che poi purtroppo è esplosa con l'aggressione russa del 24 febbraio di quest'anno in vera e propria guerra tra Russia e Ucraina ma tornando alla crisi del 1991 quindi alla fine dell'Unione Sovietica quello che colpisce in questa fine è che a differenza degli imperi che citavo prima l'Unione Sovietica non finisce perché perde la guerra ma finisce perché si suicida perché il suo leader il Gorbaciov prima tenta un programma di riforme più o meno accennate o effettive e quindi apre il vaso di Pandora ed è legittima di fatto anche l'ideologia e il sistema sovietico e dall'altra non offre o non è in grado di offrire o gli viene impedito di offrire un'alternativa di stabilità a quell'enorme spazio e questa instabilità che era stata coperta con la forza e qualche volta anche con qualcos'altro ai tempi sovietici non può essere più ricomposta l'eredità più grave io credo quindi di cui noi dobbiamo tener conto nel secondo dopoguerra è la infinita decomposizione dello spazio russo sovietico che purtroppo è ancora in corso e con cui avremo a che fare temo per molto tempo perché giustamente prima Adriano ci ricordava la centralità dal punto di vista geopolitico dello spazio dell'Europa centro-orientale in particolare di quello che corre dal Mar Baltico al Mar Nero fino giù anche all'Anatolia cioè terre tipicamente contestate per la loro pluralità etnica culturale religiosa e per la loro relativa marginalità geopolitica rispetto ai centri mondiali della potenza perché non dobbiamo mai dimenticare che la bipartizione dell'Europa non era per niente simmetrica sotto il profilo della potenza e della storia perché da una parte la nostra c'erano tutte le capitali e le relative nazioni che erano state per secoli protagoniste della storia universale non solo europea Parigi la Germania sia pure a quell'epoca retta da poco più che un villaggio sul Reno Bon l'Italia con Roma la Spagna con Madrid l'Inghilterra con Londra e dall'altra parte c'erano paesi sicuramente rilevanti ma storicamente parti di imperi altrui salvo per alcune fasi l'impero polacco-lituano per esempio e quello austro-ungherese che però era diviso dalla cortina di ferro a metà quindi è una terra di frizione l'Europa centro-orientale è una terra di conflitti che può essere difficilmente sedata se non attraverso l'affermazione di nuovi imperi non a caso una delle fasi più importanti del secondo dopoguerra in particolare quella più vicina a noi è la costruzione e poi la decomposizione della Jugoslavia già inventata dopo la prima guerra mondiale con qualche successo poi reinventata sotto Tito dopo la seconda la cui crisi è in qualche modo la conseguenza della fine dell'impero sovietico e l'annuncio della continuazione della battaglia per il controllo dei territori dell'Europa centro-orientale che è ancora in corso tutto quindi ci riporta anche in questo caso alla centralità di questo spazio fra Russia Unione Sovietica e Germania oggi fra Russia e Nato che è lo spazio più contendibile più fragile e più insanguinato che l'Europa abbia mai conosciuto e questo ci porta anche e concludo alla responsabilità particolare che tocca un paese come il nostro che è contemporaneamente europeo e mediterraneo a fianco dei Balcani a fianco della frontiera fra est e ovest europeo e che si è pensato nel secondo dopoguerra emancipato dalle sfide della storia salvo poi ritrovarsi pienamente coinvolto come siamo oggi in quella infinita disputa sull'Europa centro-orientale che ha segnato il novecento e temo segnerà ancora questo secolo vi ringrazio grazie molte Lucio Caracciolo per questa illuminante diciamo così panoramica sul lunghissimo secondo dopoguerra a questo punto penso che si si possa dire che si protrae anche oltre quanto si si supponeva fosse la data di fine della guerra fredda che di fatto non è finita con dei vincitori dei vinti ma con un suicidio politico come sosteneva il professor Lucio Caracciolo nel frattempo sono arrivate diverse domande abbiamo ancora un buon quarto d'ora per poter rispondere e comincio subito con una domanda che in qualche modo a cui in qualche modo ho già risposto entrambi con i vostri interventi e che insomma racchiude tutto il senso di questo accarellato per sia come l'odierna aggressione dell'Ucraina sia riconducibile a queste dinamiche che abbiamo visto originarsi già fino a dal primo dopo guerra e poi protrarsi lungo la guerra fredda e dopo il crollo dell'Unione Sovietica penso che possa rispondere il professor Rocucci a questa domanda quali sono le principali come dire linee di collegamento tra questi eventi che ci pariano così lontani e questo evento così tragico così vicino a noi nel tempo le linee di collegamento sono molteplici la guerra è una grande semplificatrice ma la trama che sta sotto una guerra è una trama complessa e il terreno che si ritrova dopo una guerra continua a essere complesso quindi per comprendere ciò che avviene in Ucraina bisogna tener presente questa complessità di una stratificazione storica indubbiamente c'è il confronto tra un progetto imperiale che è quello moscovita che ha una sua pur nei cambiamenti nelle trasformazioni della storia una sua continuità di lungo periodo che risale appunto all'impero russo ed è molto significativo il riferimento convinto e ripetuto nel discorso che il presidente Putin ha fatto prima dell'invasione dell'Ucraina alla eredità imperiale in modo particolare a Caterina II ma che si ritrova sia nella ricomposizione dello stato dello spazio imperiale russo con la nascita dell'Unione Sovietica alla fine della prima guerra mondiale e delle guerre civili russe sia anche con quell'espansionismo difensivo dell'Unione Sovietica staliniana alla fine della seconda guerra mondiale e dall'altra invece un progetto di tipo nazionale la costruzione di uno stato nazionale che paradossalmente ed è uno dei paradossi della storia del novecento viene supportata e alimentata da un progetto imperiale sui generis qual era quello sovietico lininiano che nella sua organizzazione del territorio dell'Unione Sovietica secondo un principio etno-federalista con la costituzione della Repubblica Socialista Sovietica d'Ucraina alimenta in un altro modo paradossalmente quello che è il presupposto di un progetto di costruzione di stato nazionale che dopo la fine dell'Unione Sovietica si realizza in un'Ucraina indipendente ma quel territorio dell'Ucraina è allo stesso tempo prodotto sebbene vi siano state delle semplificazioni prima fra tutti la Shoah quindi l'implantativo di omogenizzazione etnica del territorio durante la seconda guerra mondiale quel territorio dell'Ucraina emerge dalla fine dell'Unione Sovietica come un territorio composito un territorio plurilingue un territorio plurale con contraddizioni e tensioni e linee di frattura che la attraversano in più punti e che sono a loro volta queste linee di frattura elemento del confronto e oggi dello scontro tra un disegno imperiale e un disegno di tipo nazionale grazie professore molto caro anche questo contrasto veramente va al cuore della della vicenda tragica attuale e sempre sull'onda di questa come dire contemporaneità che facciamo fatica ancora a inquadrare quasi riusciamo a malapena a capacitarci rispetto a cosa si sta sviluppando adesso riemergono anche vecchie paure questa è una domanda che rivolge a Lucio Caracciolo ci si chiede si è parlato di minaccia atomica che fino hanno fatto gli armamenti nucleari dell'URSS e oggi c'è un concreto rischio di un'escalation atomica la questione delle armi nucleari russa era la massima preoccupazione in particolare americana al momento della dissoluzione dell'Unione Sovietica occorre ricordare che l'amministrazione di Bush padre non voleva la fine dell'Unione Sovietica voleva il depotenziamento e la riduzione di status e di rango dell'Unione Sovietica ma non la sua disintegrazione perché temeva che le 15.000 testate nucleari di cui disponevano i sovietici potessero disperdersi finire in mani magari anche di organizzazioni terroristiche o comunque in fide e provocare quindi una catastrofe assoluta di qui l'intervento americano fisico sul terreno sia pure mascherato in gran parte con cui gli americani amministrarono non solo la fine dell'apparato nucleare sovietico ma anche il controllo dei suoi centri nevralgici in particolare le città proibite e soprattutto il controllo degli scienziati e dei tecnici che lavoravano al programma atomico che in quel momento erano in vendita al migliore offerente alcuni dei quali effettivamente andarono a lavorare per altri paesi in questo contesto è anche significativo ricordare il famoso discorso del luglio 1991 del presidente degli Stati Uniti d'America George Bush padre con cui a Kiev ammoniva gli ucraini a non cedere al fascino dei nazionalismi separatisti cosa che fece abbastanza imbufalire la gran parte una buona parte quantomeno degli ucraini i quali stavano organizzando la separazione dell'Ucraina come stato indipendente dall'Unione Sovietica cosa che poi venne formalizzata e realizzata nel dicembre di quell'anno appunto uno dei problemi erano le famose bombe atomiche ucraine perché al momento della fine dell'Unione Sovietica l'Ucraina era la terza potenza nucleare del mondo come sappiamo con il memorandum di Budapest di quattro anni dopo la questione viene formalmente regolata poi esistono varie leggende metropolitane alimentate in particolare in questa fase dai russi per cui insomma nel trasloco qualche bomba si è dispersa o è finita nascosta da qualche parte ma tornando alla questione dell'oggi il problema è che rispetto a prima è cambiato il tono dei rapporti fra americani e russi rispetto a quello che c'era all'epoca sovietica nel senso che in epoca sovietica esisteva una simmetria delle culture strategiche oggi esiste una profonda alterità e quindi una profonda incomprensione e quindi al di là delle questioni tecniche che pure esistono e contano esiste un'attuale incomunicabilità di fondo fra russi e americani che permette agli uni agli altri di giocare magari al limite delle linee rosse o qualche volta di superarle a rischio di scatenare qualcosa che nessuno vorrebbe ma che può accadere proprio perché nessuno sa esattamente che cosa pensa l'altro eh certo infatti infatti prima faceva riferimento al fatto che durante la guerra fredda c'era questa reciproca comprensione diciamo strategica il problema della guerra fredda è che si chiama guerra in realtà è stato il più lungo periodo di pace non solamente in termini di non guerra che l'Europa abbia vissuto in età moderna certo infatti cioè se c'era guerra non era comunque in Europa e per fortuna almeno per noi europei occidentali continua speriamo che continui e magari ricomprenda anche la parte orientale del continente certo eh rivolgerei un'ultima un'altra domanda al professor Rocucci che credo che sia proprio più qualificato forse a rispondergli e se è una domanda piuttosto come dire netta come è posta non so bene come interpretarla ossia quanto pesa l'elemento religioso in questo conflitto se ha un peso o un ruolo ha un ruolo sicuramente nel determinare le condizioni da cui è scaturito il il conflitto ed è stato uno strumento utilizzato nella contraposizione tra progetti ehm confliggenti sull'Ucraina l'Ucraina è un territorio è un paese in cui la complessità del mondo cristiano raggiunge forse dei dei massimi eh delle massime manifestazioni e questa complessità si manifesta in una conflittualità molto acuta e radicale come forse eh sapranno eh vi sono multipli conflitti multipli che attraverso il mondo cristiano dell'Ucraina perché vi è una divisione in due del mondo ortodosso tra un'ortodossia nazionale ucraina eh di obbedienza costantinopolitana cioè verso il patriarcato ecumenico di Costantinopoli e un'ortodossia fino adesso quella maggioritaria eh invece di obbedienza moscovita ma oggi molto fortemente critica nei confronti della posizione del patriarcato di Mosca riguardo alla guerra in corso ma non è l'unico conflitto forse questo è il più acuto ma c'è un conflitto tra il mondo ortodosso nel suo complesso e quella realtà particolare che ha un avuto storicamente e continua a avere un ruolo importante nell'alimentare il nazionalismo ucraino che è la chiesa greco-cattolica ucraina conosciuta anche con la denominazione datale dagli ortodossi di chiesa uniate cioè quel pezzo di chiesa ortodossa che alla fine del cinquecento in base a un disegno elaborato da gesuiti polacchi riconobbe l'autorità del papa in cambio della ehm autorizzazione a continuare a usare i propri riti liturgici bizantini la propria organizzazione ecclesiastica eh orientale i propri usi e costumi ecclesiastici e il conflitto tra ecclesiastico religioso tra eh greco-cattolici ortodossi che ha una storia secolare e che dopo la liquidazione della chiesa greco-cattolica da parte di Stalin è riemerso con forza negli ultimi anni della perestroica negli ultimi anni ottanta e poi negli anni novanta quindi anche conflitti violenti sull'appropriazione o meno di chiese è un altro degli aspetti che si colora di evidenze geopolitiche ma vorrei ricordarne un ultimo ma forse non ultimo perché si deve parlare anche del mondo protestante ma fermiamoci qua che è quello tra greco-cattolici e cattolici-latini che sono eh cattolici di eh nazionalità spesso e di orientamento culturale polacco e non bisogna dimenticare che dentro la storia dell'Ucraina non c'è solamente un conflitto tra il nazionalismo ucraino e la visione imperiale russa ma vi è stato e emerge ed era emerso poco prima di questa guerra con una qualche virulenza per fortuna solamente verbale o diplomatica vi è stata una storia di conflittualità tra i polacchi che erano l'aristocrazia e i grandi proprietari terrieri della Ucraina centrale e occidentale cattolici latini e gli ucraini i contadini dei proprietari polacchi invece di fede religiosa ortodossa o greco-cattolica ecco quindi sì l'elemento religioso è un elemento che intreccia le conflittualità geopolitiche dell'Ucraina in un processo di reciproca strumentalizzazione e di reciproca alimentazione che credo sia una componente significativa di quella trama complessa che dicevo di una guerra per tanti versi che sembra come dire semplificata nella sua brutalità ma che ha questa stratificazione complessa grazie grazie molto professore un altro intervento che da qui legge molto bene la complessità di quelle zone di quei luoghi un'ultima domanda agli ultimi cinque minuti rivolgerai a Lucio Caracciolo che anche questa domanda dà l'ampissimo respiro però confido nelle capacità di sintesi del direttore su quali base si può raggiungere un nuovo equilibrio internazionale a partire da questa crisi e quale sarebbe il ruolo della Cina in tutto questo allargando un po' lo sguardo un equilibrio sarà comunque precario perché gli attori in gioco sono troppi per poter trovare un compromesso perfetto tipo quello della guerra fredda viviamo in un mondo di 8 miliardi di persone che si avviano a essere forse una decina alla fine di questo secolo che non ha nulla a che vedere anche sotto il profilo strettamente numerico degli stati intanto che si sono moltiplicati nel tempo ma soprattutto anche delle persone che abitano il pianeta che è un numero più o meno decruplo di quello che esisteva forse un po' un po' meno insomma era circa un miliardo e mezzo gli abitanti del pianeta alla vigilia della prima guerra mondiale adesso siamo sugli 8 miliardi questo già rende l'improbabilità di qualsiasi tipo di ordine considerando anche che al posto degli imperi sono proliferati a centinaia ormai sono più di 200 gli stati e insomma la complessità geopolitica demografica culturale di questo mondo è eccessiva per immaginare un ordine mondiale oppure lo si può immaginare ma attraverso una guerra mondiale che assegni a uno o due grandi centri di potenza il controllo del pianeta cosa che francamente non mi auguro dobbiamo vivere quindi in una situazione relativamente precaria certo noi siamo in una condizione molto privilegiata come italiani e come europei occidentali godiamo da tre generazioni di una forma particolarmente evoluta ed economicamente soddisfacente di pace ciò che invece per la gran parte del pianeta una buona parte del pianeta e purtroppo oggi anche per la parte orientale del nostro continente non è vero questo ci ha anche forse un po' estraniato rispetto al mondo ci ha fatto perdere di vista la realtà che ci circonda e che comincia ad essere anche dentro di noi e ci coglie quindi oggi particolarmente impreparati confusi e un po' traumatizzati da questa vicenda ucraina che segue peraltro quella del covid questo non è evidentemente un fattore da considerare come secondario perché segnala uno spaisamento e lo spaisamento del nostro paese diventa pericoloso quando intorno a noi non c'è più quasi nulla di stabile o quello che è stabile non ha molto interesse a conoscere la nostra opinione nel costruire questa stabilità voglio dire che tanto per essere chiari in questa fase gli Stati Uniti d'America agiscono da remoto sapendo che il grosso dei costi per fortuna per ora economici un giorno chissà speriamo di no anche umani di questa guerra lo pagheremo noi europei e non loro e questo evidentemente segnala anche una differenza di prospettive inevitabile tra le due sponde dell'Oceano Atlantico quindi di quello che chiamiamo Occidente quindi dobbiamo imparare a navigare a vista senza immaginare chissà quali progetti definitivi di pace universale perché sarebbe anche un po' andare a sbattere contro la realtà e questo fa sempre male e lavorando quotidianamente senza tregua per prima di tutto orientarci nel mondo e poi agire di conseguenza assumendoci anche delle responsabilità cui non siamo abituati e qui purtroppo devo segnalare e chiudo su questo perché entriamo nella contemporaneità totale che non mi pare che la nostra classe dirigente non parlo solo della politica abbia colto il momento speciale che stiamo vivendo e questo ci rende più oggetti che soggetti della partita in corso grazie grazie molto posso chiedere al nostro moderatore se mi permette di fare un'osservazione a margine del nostro di questa nostra conversazione certo prego poi volevo anche portare un'altra domanda come nel discorso con cui Putin ha sostanzialmente annunciato l'inizio della guerra ci fosse una densità di discorso storico direi un eccesso di storia soprattutto nel suo uso strumentale a fini politici ma devo anche osservare come vi è una carenza profonda di storia nel modo con cui invece da occidente tante volte si guardi e si è guardato e si è cercato di comprendere le sfide di fronte a cui ci troviamo ci sono tanti esempi ma voglio dire che il discorso su cui abbiamo insistito a lungo della complessità della complessità di questo presenza teodrammatico in cui ci troviamo della complessità dei passaggi storici su cui ci siamo soffermati questa complessità è la cifra del mondo e la scorciatoia di semplificare la complessità non conduce da nessuna parte fa sbattere la testa al muro allora c'è bisogno di storia per poter comprendere la complessità il problema della complessità non è ridurla a semplificazione ma è comprenderla e renderla intellegibile e questo credo sia il compito della storia dello studio della storia e dell'insegnamento della storia grazie moltissime professori per questo ultimo intervento che mi dà proprio anche l'occasione di andare a chiudere questa diretta avremmo voluto anche prolungarla ulteriormente c'erano altre domande molto interessanti e chiuderla facendo riferimento proprio ad un progetto che mira a questa a ciò ossia a far emergere la complessità della storia e il suo valore in quanto come dire bussola per orientarci in ciò che sta accadendo adesso ed è il progetto di cui abbiamo parlato prima le carte della storia spazi e tempi del mondo il nuovo manuale per la storia triennio di Lucio Calaccio e Adriano Rocucci un manuale che pone al centro appunto anche l'uso della cartografia proprio per poter collocare nello spazio le dinamiche geopolitiche che si sono succedute nel corso di quest'ultimo millennio che è oggetto della storia che si studia al triennio è un compito difficile che appunto noi abbiamo cercato di assolvere anche con degli apparati ideatici ad hoc che aiutano allo studio attivo e all'esposizione orale e soprattutto abbiamo puntato non soltanto sulle carte geografiche per lo studio della storia ma anche le carte degli storici ovvero sia i documenti le fonti su cui lavorano gli storici e anche sulle testi storiografici in cui gli storici dibattono le grandi questioni della storia e tutto questo il manuale appunto è ricchissimo di tutti questi strumenti e appunto mi ripeto spero che abbiate presto l'occasione di averlo per le mani di valutarlo e di apprezzarlo e da ultimo proprio in chiusura ricordo altri due appuntamenti un altro sempre con i nostri webinar ci sarà settimana prossima il 16 marzo un altro webinar con Lucio Caracciolo nell'ambito delle lezioni di storia e si parlerà ancora appunto della lunga pace chiamata guerra fredda è un po' cosa su cui si è già soffermato durante questo intervento la guerra fredda che in realtà è stata una lunga pace e poi ci sarà un webinar a cura della redazione in cui appunto ci soffermeremo più da vicino su questo nuovo progetto le carte della storia sarà il 4 aprile ci ho detto ringrazio nuovamente i nostri redatori Lucio Caracciolo da Adriano Rocucci e vi ringrazio voi per l'attenzione e vi saluto alla prossima arrivederci arrivederci